Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio realizzato dal Lab 2101 per la testata affaritaliani.it. Secondo la rilevazione, il 51,9% degli intervistati ha fiducia nella leader di Fratelli d'Italia che ha vinto le elezioni politiche del 25 di settembre. Il 31,2% degli intervistati ha poca fiducia in Giorgia Meloni, mentre il 16,9% risulta senza opinioni. Per quanto riguarda la sinistra, il 55,8% degli italiani ritiene che il PD e 5 Stelle non debbano allearsi, rimanendo così due entità separate, così come è successo alle elezioni del 25 settembre. Il 36,7% del campione pensa che questi due partiti dovrebbero confrontarsi di volta in volta sui temi. Solo il 7,5% crede che dovrebbero unirsi in maniera formale su tutti i fronti, una quasi fusione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.